Il mondo della scuola in mobilitazione e i sindacati si preparano a quello che definiscono un grande sciopero generale contro la riforma della scuola. Il disegno di legge del governo denominato la buona scuola non vi è nulla di buono in questo progetto, dicono CGL, CISL, Wille, Snals, che anche dal Molise si apprestano a manifestare a Roma il 5 maggio, come hanno spiegato in conferenza stampa. Si faccia subito un decreto per i precari, noi chiediamo che si faccia immediatamente stralciandolo dal discorso della buona scuola, perché una riforma ha bisogno di tempi lunghi e non ristretti, quali possono essere quelli di un decreto per le stabilizzazioni. Quindi innanzitutto le stabilizzazioni. In secondo luogo ridurre questi poteri esagerati che si attribuiscono al dirigente scolastico, il super dirigente, che si sceglie tutto, si sceglie l'offerta formativa, si sceglie quali docenti sono idonei alla sua scuola e sceglie tra questi docenti quali sono meritevoli. Abbiamo uno stipendio che tra i più bassi in Europa, quindi chiediamo con forza che alcune materie si facciano col consenso e con la contrattazione insieme ai sindacati, non in maniera divisiva nella logica dell'uomo solo al comando. Il governo deve ascoltare la voce della scuola, dei lavoratori che sanno come funziona e cosa serve e deve confrontarsi con i sindacati, ha detto Vittorio Mai della SNALS. Fino a quando non c'è un ravvedimento da parte di chi ci governa nel voler fare una riforma condivisa, partecipata e in qualche modo utile alla scuola italiana, la protesta continuerà. Il messaggio deve essere forte, chiaro e lo sarà, sono convinti Cigelle, Cisville e SNALS. Il messaggio forte che deve venire fuori è uno che il governo deve capire che il problema non sono i sindacati, non ce li ha con i sindacati ma con chi lavora oggi nella scuola, che oggi la fa funzionare nonostante i tagli, nonostante le difficoltà che ci sono venute dagli anni passati che oggi sopportiamo e nonostante ciò abbiamo la scuola frequentata dal 94 per cento degli studenti italiani che ha raggiunto ottimi livelli di riconoscimento a livello europeo ed è mal pagata. I pullman per Roma organizzati dai sindacati partiranno da Campobasso, Termoli e Isernia.